Grazie a tutti Si si e chi si muove? Guardate che è l'austra che si cerca. E' fatto? Si. Si sta aspettando lei. Non c'entra questa cucchetta, avete capito che è il problema? Perché ci sta che la lama non sta a fare il grasso. Vai. Si. Chiuse. 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 Grazie a tutti.